E' stata sicuramente una bellissima esperienza che abbiamo iniziato nell'estate 2006, siamo arrivati al quinto anno di vita, nella scorsa estate abbiamo avuto la possibilità di ospitare ai Champions Camp estivi quasi mille presenze tra iscritti e staff, l'obiettivo che ci poniamo è di raggiungere nei prossimi due anni e superare le mille presenze e l'aspetto certamente che a noi fa più piacere ricordare è che in questo bellissimo percorso quinquennale siamo riusciti ad ospitare qualcosa come 3.000 presenze, circa 2.500 iscritti e più di 500 educatori e istruttori sportivi e questo è l'aspetto che più ci riempie Don Goglio e che ci induce ad andare avanti positivamente. Chiara e Chiara, vi auguro un buon anno e vi aspettiamo ai Champions Camp 2011, bye bye! Da fine gennaio 2011 saremo pronti con tutte le nuove proposte dei Champions Camp 2011 che dal primo febbraio partiranno con le iscrizioni, saremo sempre presenti a Palagono, a Polinago e per la prima volta a Zocca con i camp di volley e di basket di specializzazione. Proporremo tante discipline sportive, multisportive e con prevalentemente calcio, volley e basket come percorso monosportivo e tanti altri sport multisportivi come tiro con l'arco, arrampicata, mountain bike, scherma, hockey, musica e sport, tutti sia a Palagano che a Polinago. Uber, Gigi, Angelo, arrampicata a tutti voi, Merry Christmas and Happy New Year!